buonasera a tutte e buonasera a tutti benvenute nella mia stanza virtuale e questa sera un po' per stare nella moda delle celebrazioni di questi giorni con l'otto marzo e quindi la anche insomma tutto un pensiero e una riflessione sul ruolo della donna e vedo che tra l'altro anche nei gruppi danteschi e non continuano ad animarsi questo tema delle donne nella commedia pensavo anch'io di omaggiare la quarta rosa diciamo così dentro dentro il poema e quindi prendiamo una piccola pausa dal paradiso anche se la volta scorsa con piccarda abbiamo visto un personaggio che non da poco e oggi volevo fare un discorso un po un po generale tanto vedo se qualcuno si sta collegando io poi guardi i miei negromanzie come richiamala la maristella mirko mirko negromante come eriton cruda a proposito di di donne vediamo un po se inizia a muoversi qua la faccenda intanto vediamo come state qua vedo 4 4 presenze però ancora a buonasera maurizio mitico maurizio intanto iniziamo un po condividere in qualche altro gruppo ma se no il popolo dantesco parte tempo a leggere barbero se no intanto vedo che si stanno un po movimentando le cose la festa allora facciamo ancora l'ultima eccola qua ora va bene adesso ma scusate soltanto maschi ci sono stasera come è la storia va bene tra l'altro io ho anche degli appunti mi sono preso così un po ecco serena cristina i cattivi maestri i cattivi maestri fanno bene e da è direttamente da buenos aires di buenos aires il mitico vincenzo allora parlare delle donne nella commedia non è mica un argomento facile per chi mi segue sa che è un argomento che io seguo molto e studio molto tra l'altro vi rimando anche alla bella intervista che avevo fatto a gianni batti sul in merito al suo libro su dante l'iniziazione femminile e quando una persona insomma ama molto un argomento o sta tanto su un argomento poi succede che rischia di fare confusione non riesce non riesce a essere sintetico ben ritrovato jacopo angelo spanò tra l'altro io l'ho citato soltanto perché voglio incastrarlo perché voglio fare una diretta con lui perché jacopo sta facendo una bella tesi su dante e gli ultimi ma non mi dà soddisfazione non mi vuole dire se vuole fare o no la diretta con me allora buonasera tutte le persone che si stanno collegando dai mi sembra che adesso inizia ad esserci un buon numero e quindi direi di partire allora il tema delle donne nella commedia è un tema vastissimo esorbitante io stasera lo prendo un po' a saggini spizzichi bocconi un po' perché molte donne paralisiache saranno tema di ognuna di una apposita puntata quest'anno maria lucia beatrice insomma sono persone che avranno il loro il loro spazio e il loro e il loro momento e oppure appunto come piccarda la volta scorsa ma a breve farò cunizza che un'altra insomma grande figura femminile molto molto interessante e un po' perché mi piaceva inquadrare con voi la questione in generale è proprio fare un po' di censimento dantesco cioè provare a vedere proprio anche numericamente quali sono le presenze delle donne nella commedia e trarre un po' di riflessioni quindi un po' così un po' una giornata di andamento nozionistico generale quindi tanti tanti nomi allora buonasera maria buonasera tutte le persone che si sono connesse o che si connetteranno ritenetevi tutti e tutte ampiamente viste e visti allora io partirai da una provocazione di un personaggio massimo fini che in un articolo online dove tra l'altro lui commentava il libro di cazzullo a rivedere le stelle e il titolo del libro è il sommo alighieri e il piccolo dante quindi lui parlava del libro di cazzullo che parla dell'inferno quindi questo un po il passaggio cito alcune di queste frasi bellissime di questo articolo in dante ci devono essere delle gravi turbe psichiche insomma noi leggiamo un po' sconcertati queste frasi è un manicheo è un moralista insopportabile a un occhio moderno in un colpo solo sono sistemati i brutti i grassoni le persone che non corrispondono a un canone di bellezza standard gli do le donne gli omosessuali eccolo qua il nostro massimo fini con questa frasetta piena di inesattezze insomma sistemava così il nostro sommo poeta e il nostro maestro di sapienza e di felicità è una frase assolutamente che non ha nessuna veridicità nessuna tendibilità testuale si rifaceva l'attenzione tra dante forese ma non so bene che cosa si rifacesse si rifaceva ad alcune cose del dell'inferno ma insomma ma fate anche male lette anche superficialmente ma non solo solo perché poi provando a fare un po di ricerche su internet ho scovato un altro articolo di camillo langone il titolo è questo omofobo hater misogino dante si merita il purgatorio insomma quando si cita si inizia a digitare dante e vedere gli articoli sul giornale insomma in questo periodo questo tratta un articolo del 2019 mentre quello di fine del 2020 e leggi così frasi di questo tipo e se dicessi che so che le fiorentine sono tutte troie cito queste sono parole di langone io ma mai mi le quarelle partirebbero davvero dante l'ha detto nel canto ventitresimo definendole sfacciate e poi svergognate più impudiche delle impudiche femmine della barbagia di sardigna oggi protesterebbe michele murgia colpevoli di andare mostrando con le pompe il petto e di meritarsi perciò pene tremende insomma così insomma facendo degli assaggini di questo tipo su web troviamo queste perle anche qua insomma è una frase totalmente senza senso ma dopo ne parleremo sono frasi provocatorie però io che un po' frequento i gruppi facebook i gruppi social che un po' cerco anche qual è l'opinione delle persone ma anche dei cosiddetti appassionati di dante spesso ritorno a questo tema del dante misogino intanto buonasera tutte le persone alla spilza di di persone che stanno salutando c'è questa idea del dante misogino tra l'altro quando vado ogni tanto nelle scuole nei licei a fare le mie le mie conferenze le mie lezioni o c'è sempre una ragazza che prima o poi mi dice ma me dante sta antipatico perché perché misogino insomma diciamo che per la nell'immaginario collettivo soprattutto nell'immaginario collettivo di chi si limita la lettura dell'inferno e a chi non e chi non legge nell'interesse la commedia o se anche la legge nell'interesse non la legge in maniera profonda o non la legge con attenzione potrebbe risultare questo pregiudizio di dante misogino e io un po stasera vorrei sfatare questo quindi diciamo così la prendo un po anche così cioè questa idea di dante che ce l'abbia con le donne è assolutamente è assolutamente assurdo perché ma c'è questo vocale ah sì è vero mi hai lasciato un vocale se si vede c'è un vocale di dieci minuti mamma mia devo avere paura cristina allora quindi il tema è questo dante misogino dante omofobo proviamo andare un po avanti c'è l'idea è è questa allora la prima cosa che mi sento di dire è che dante nella scelta della commedia proprio nella scelta politica della commedia fa una scende in campo e scrive il suo poema in volgare e non in latino e nella lettera can grande premesso che questa lettera sia autentica perché anche qua bisogna stare attento perché sennò tutti si arrabbiano viene detta che la commedia è scritta in questa lingua in questo lucuzio vulgaris in qua et muliercule comunicante nella quale parlano le muliercule le donne semplici le le casalinghe di boghera come le casalinghe come scrive gianni bacchelli nel suo libro sulle la qualità dell'esperienza della divina commedia allora in qualche maniera sceglie la lingua non la lingua accademica patriarcale maschilista a cui potevano avere accesso soltanto i maschi ma sceglie una lingua che in qualche maniera possa essere anche patrimonio delle donne epistola 13 epistola 13 e quindi scrive questa commedia anche per le per le donne poi insomma non è sì sì lo so ma ma risponderò ma le risponderò ho un vocale da dieci minuti da ascoltare dopo le rispondo cristina puoi affermare che io risolvo sempre quei problemi prima che qua l'elettorato i miei fan mi contestino puoi dire che io ti sono d'aiuto in questo periodo grazie allora dante nella commedia scrive il suo poema anche per le donne pensando anche alle donne ma soprattutto nella commedia dante è salvato dal femminile un femminile sacro e salva a sua volta lui salva il femminile sacro il femminile sacro salva dante c'è un po questo gioco c'è un po questo gioco virtuoso se noi vogliamo avere chiara questa cosa non è che dobbiamo andare chissà quanto in profondità quindi anche queste persone che dicono che dante misogino potrebbero potevano anche fermarsi al canto secondo dell'inferno dove appunto c'è questa questo complotto d'amore come lo chiama in maniera molto suggestiva maria castronovo questa staffetta salvifica di donne celesti di queste fate di queste donne meravigliose che salvano dante tra l'altro canto secondo che pure una scrittrice una studiosa tenta come michela murgia in parte tra intende insomma uomini e donne con con dante gli uomini e donne di questa modernità fanno un po fatica a capire lo sto dante allora proviamo stasera a non è che perché l'abbia capito io e gli altri no ma perché secondo me se si legge un po attesi o con un po di pregiudizi o con delle lenti deformanti è facile anche sbagliare però prima di tutto proviamo a inquadrare la situazione generale nel senso che spesso le persone che cercano di salvare dante da questo pregiudizio di misoginia non è che dicono dante non è misogino perché dante non è misogino ma dicono sì vabbè dante è misogino però dobbiamo anche considerare che a quell'epoca è un uomo del suo tempo beh insomma sì da questo punto di vista assolutamente cioè il pregiudizio il pensiero androcentrico il pregiudizio maschile nei confronti delle donne è molto molto forte ed è un pregiudizio che nel medioevo ha sicuramente un suo peso ma come ci arriviamo a questo allora provando adesso un po a semplificare banalizzare la cosa in una maniera orribile che chissà quante critiche tirerà su però il maschio storicamente da sempre ha voluto dominare ha voluto dominare gli esseri viventi e ha voluto dominare le donne quindi nei secoli tutto a livello politico sociale religioso economico psicologico va a confermare un privilegio maschile tra l'altro di alcuni maschi rispetto ad altri non della totalità del maschile rispetto a un universo femminile quindi la gerarchia di genere diventa una gerarchia suprema che che va a costituire tutte le società umane conosciute ovunque le genti di tutti i popoli di tutte le culture di tutte le storie si sono divise tra uomini e donne e gli uomini in qualche maniera risultavano destinatari di un privilegio di potere rispetto alle donne questo è abbastanza diciamo così sereno vivi vi invito anche a leggere di 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 arari sapiens d'animali a dei breve storia dell'umanità lui scrive almeno a partire dalla rivoluzione agricola le società umane sono state per la maggior parte società patriarcali che tenevano in considerazione gli uomini molto più che le donne ma mi verrebbe da dire che su questo non abbiamo tanto da dire allora la teoria diciamo così più comune anche più istintiva che in qualche maniera il pregiudizio il privilegio scusate maschile sul sul mondo femminile parta da una potenza muscolare che poi in realtà questa cosa non è che ha giustificazione diciamo così in tempi molto antichi poi già quando le strutture le civiltà si strutturano in maniera più complessa ci si accorge già che il re non è per forte il più forte quindi qualcos'altro succede diciamo che il punto di partenza potrebbe essere questo ma ci sono anche dei punti di partenza simbolici ben più pesanti intanto nel mondo giudaico la situazione non è semplicissima ci sono molti passi dei libri della bibbia in cui c'è un aspetto di predominanza maschile sul femminile ma anche semplicemente se voi pensate il fatto che prima venga generato adam poi venga generata eva va a scatenare tutta una serie di teorie di ipotesi per cui l'uomo è stato direttamente fatto da dio quindi immagine e somiglianza da dio la donna viene fatta in un secondo momento quindi c'è una relazione indiretta direttamente col creatore in più la donna è stata ricavata da un adamo dormiente quindi fatto non in uno stato di coscienza ma in uno stato di torpore insomma tutto questo andrebbe a in parte a contestare insomma il fatto che la donna possa a rivendicare un suo ruolo allora adesso sì sì sapevo che prima o poi avreste nominato tutto questo sicuramente adesso non è che non esistono figure femminili e non esistono regine o non esistano anche nel pantheon figure di spicco del mondo femminile ma appunto nell'immaginario di questi millenni lilith è una donna che non è un modello positivo la cristina cita morgana che che è un libro bello della murgia dove ci sono delle donne diciamo così fuori dagli schemi e fuori ecco sono tutte donne che ce l'hanno fatta ma non sono modelli diciamo così che verrebbero consigliati alle brave bambine c'è questa retorica delle brave bambine e sicuramente tutta queste queste donne che adesso voi nominerete non hanno a che fare con questo poi per fortuna lo spirito della dea lo spirito del femminile è uno spirito che resiste a prescindere chiaramente la tesi del matriarcato è una tesi importante considerevole ma da qua dire che nel mondo nei secoli abbiano governato le donne ecco sicuramente no a questo si aggiunge un pregiudizio che a che fare col mondo greco cioè il mondo giudaico c'è questa inferiorità della donna proprio nella sua genetica è stata creata dall'altra nel mondo greco c'è un altro pensiero molto forte anche da un punto di vista biologico e qua rimando a degli degli studi di ai testi di adriana cavarero però se noi leggiamo aristotele la femmina non concorre con insieme alla generazione cioè a fare i figli non sono le donne ma sono i padri le donne sono soltanto dei grembi degli uteri transitori per cui in qualche maniera la potenza materna di generazione della vita viene negata dal pensiero greco e in qualche maniera si preferisce pensare a un diamo così una virtus patriarcale fondante e quindi ancora una volta l'inferiorità della donna è addirittura inferiorità biologica lei diventa qualcosa di passaggio nutrimento transitorio ma poi basti anche pensare a livello linguistico se pensiamo a parte la recente questione della 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 venezia direttore d'orchestra prossima anche nel linguaggio ma la stessa filosofia che da sempre considera l'uomo e si riferisce all'uomo è vero che è un uomo inteso come essere umano ma noi sappiamo benissimo questo uomo inteso come essere umano è modellato sul sesso maschile il pensiero filosofico quando dice l'uomo si dice l'essere umano ma questo essere umano non è considerato nella sua loro pluralità quest'uomo è razionale politico maschile e tutto quello che riguarda anche il pensiero o certo pensiero antico ha a che fare con il maschio quindi un pensiero androcentrico incontro pensiero giudaico pensiero greco ma sappiamo bene dove vada anche a sfociare c'è un messaggio per lunghi lunghissimo ma anche un pezzo forse maria allora prodinella ne parlerò e quindi abbiamo poi anche i padri della chiesa che si pronunciano in maniera molto forte quindi tra tutte le belve non se ne trova una più nociva della donna donna tu sei la porta del diavolo la donna è un animale né saldo né costante è maligna mira a umiliare il marito è piena di cattiveria e principio di ogni lite guerra è ignobilior è viglior insomma ecco diciamo che questo è un po il problema di tutto quanto cioè diciamo lo sfondo l'acqua nella quale nuota dante poi vi ho detto ve l'ho detto insomma che questa è una cosa abbastanza così brutale banalizzata però insomma sfido chiunque a dire che i diritti delle donne fossero riconosciuti in ambito ebraico medievale cristiano in modo maggioritario questa cosa sicuramente non c'è e se dei mentitori però ecco in tutto questo diventa assolutamente interessante eccezionale quella cosa che fa dante cioè in che modo dante inizia e abbia e diciamo così muove il suo poema e la sua opera e il suo e la commedia allora prima di tutto è interessante appunto parlando di questo canto secondo dell'inferno in cui dante è vorrebbe partire ma un po cambiato idea non sa bene se fidarsi o meno poi d'altronde sai ha incontrato un fantasma un fantasma che gli ha detto vieni dobbiamo andare nell'inferno e poi vogliamo fare delle cose insomma dante ha dei tentennamenti non si sente all'altezza io non ne nea io non paolo sono insomma c'è tutto una serie di e tutta una serie di resistenze ritrosie psicologiche del poeta per cui a un certo punto domanda a virgilio ma scusami ma io perché devo fare questo chi il concetto cioè chi è che da l'autorizzazione a fare questa cosa in maniera un po' scherzosa potremmo dire che dante chiede le garanzie le referenze a virgilio ecco questa secondo me è già una prima cosa interessante le referenze che porta a virgilio sono referenze femminili virgilio non è mosso da dio virgilio è l'ultima pedina di un domino che inizia a muoversi da una da una cabina di regia celeste appunto il complotto d'amore come lo chiama maria castronovo che secondo me è una definizione bellissima che vede prima di tutto maria maria prima di tutto è la regina e negli ultimi canti del paradiso sono numerose le volte in cui maria è nominata regina maria regina la quale maria prova pietà vedendo dante e anche qua è interessante perché noi iniziamo il canto primo nel mezzo il cammino di nostra vita noi vediamo dante in una situazione di crisi ma nel canto secondo noi abbiamo un flashback cioè noi vediamo quello che avviene prima di questa selva oscura o dentro questa selva oscura ecco dentro questa selva oscura c'è maria non ce ne accorgiamo nel canto primo lo sappiamo nel canto secondo nel canto secondo maria vede dante e appunto decide di muovere tutto un sistema salvifico chiama santa lucia santa lucia vada beatrice santa lucia rimprovera beatrice dicendogli ma come non ti sei accorta che l'amico tuo e non dell'avventura quell'uomo che chiamava tanto chiamava tal punto da essersi elevato dalla schiera volgare è in pericolo sta addirittura combattendo la morte anche qua maria vede tutto nella corte del cielo maria vede ma beatrice non se ne accorge neanche che dante sia in difficoltà maria chiama lucia lucia chiama beatrice beatrice scende nel limbo prende virgilio muove virgilio e virgilio va e parte poi tutta questa tutta questa operazione tra l'altro parentesi cosa interessantissima virgilio si muove all'interno dei dei gironi infernali sempre attraverso dei mandati femminili o celesti beatrice c'è beatrice dall'autorizzazione a virgilio di uscire e di andare a prendere dante portarlo addirittura fino al paradiso terrestre ma nel canto nonno dell'inferno viene nominata questa maga tessala eriton cruda ericto la quale fa una compie un'operazione di sciomanzia e spinge virgilio dal cerchio primo al cerchio nove al cerchio nono per recuperare un'anima quindi virgilio che viene mosso lungo l'inferno nei regni oltremondani come una sorta di marionetta in mano a queste donne a potenti potenze infernali ctonie oscure come le potenze che animano e di cui è ministra eriton cruda o potenze celeste questo anche è interessante cioè virgilio come questa sorta di passività di virgilio in questi influssi femminili però ecco queste tre donne sono tre donne chiaramente di peso ruolo di beatrice nella commedia non è un ruolo di poco ma il ruolo della di beatrice nella vita di dante nella nella nell'opera poetica di dante poi ripeto a brevissimo farò un incontro già su beatrice mi sa già il 25 marzo per onorare il dante di quindi non dico altro però è in dubbio che beatrice ai tempi della conclusione della vita nuova stavamo questa lode di beatrice impareggiabile che nessuno avrebbe mai potuto ugualiare che sarà poi la commedia e già soltanto quel canto secondo dell'inferno capiamo che non è proprio così vero che dante abbia un pensiero misogino le tre donne maria lucia e beatrice sono totalmente attive all'interno del della prima cantica ma la stessa è ritorno cruda è attiva muove le anime a suo piacimento anime maschilice virgilio vittima di questa possessione di a bocca ma sempre stando a maria quindi questa piccola cosa su maria ripeto dovrò ritornare un'altra volta è interessante che la famosa frase scaccia demoni quella frase è quella frasetta imperativa potropaica che virgilio usa per allontanare o per mettere a bada i custodi infernali vuolsi così cola dove si vuote ciò che si vuole e più non dimandare la frase che virgilio usa sia contro caronte sia contro minosse nei commenti solitamente viene attribuita alla suprema autorità di dio i commenti sono abbastanza si sono abbastanza sereni su questo salvo che se noi andiamo a sentire la preghiera di bernardo alla vergine la sua ardente orazione vediamo una frasetta un distico che dice ancor ti priego regina che puoi ciò che tu vuoli corti prego regina che puoi ciò che tu vuoli potere e volere vuolsi così cola dove si vuote ciò che si vuole che puoi ciò che tu vuoli allora sulla scorta anche delle riflessioni di di un uno studioso che è mario avversano nel suo commento al canto 33 sicuramente qua probabilmente il riferimento a maria insomma maria è la regina la la dea ex macchina che guida tutta la vicenda noi stiamo facendo tutto quello che stiamo facendo in nome di maria tra l'altro è interessante se voi vi ricordate il canto scorso di piccarda che la prima la prima preghiera scusate che appare nel canto terzo è ave maria cantando è l'ave maria l'ultima preghiera è vergine madre figlia del tuo figlio cioè il paradiso è incorniciato da queste due grandi preghiere canto trattato il paradiso ave maria canto trentatresimo del paradiso vergine madre il purgatorio è incorniciato dai padrenostri il padrenostro di purgatorio 11 la bellissima preghiera dei superbi e cornice dei lussuriosi e purgatorio 26 guido guinizelli che chiede a dante di dedicare un pater nostro quindi in qualche maniera il padre nostro è in sigilla le cornici purgatoriali superbia e lussuria invece l'ave maria questo canto mariano queste preghiere mariane incoronano il paradiso e anche questo è interessante ed è da tenere in mente per stare ancora appena appena con beatrice ma poco 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 avete già visto secondo me se avete seguito le dirette legate ai segni bui del cielo della luna quindi il paradiso 2 ma anche la volta scorsa un pochino con paradiso 3 che beatrice si presenta come magistra si presenta come autorità sapienziale si presenta come diciamo così una campionessa è un'autorità del pensiero della chiesa madre della chiesa perché non posso dire padre della chiesa secondo mio infallibile avviso ecco beatrice nelle questioni teologiche non sbaglia mai e anche questa è una bella rivoluzione perché invece che avere la solita donna del mondo cortese che si occupa o di faccende private o di faccende amorose abbiamo una donna che entra gamba tesa nelle questioni teologiche dice a dante di stare zitto abbassa la testa ascolta quello che ti dico e ha sempre ragione abbiamo dei lunghissimi monologhi di beatrice doveva confutare le tese errate di dante lo mazzuola e lo rimette in riga paradiso 2 paradiso 4 paradiso 5 che vedremo la volta prossima paradiso 7 insomma quando maria quando beatrice parla incarna proprio un aspetto sapienziale autorevole ecco quindi alla faccia della misoginia dantesca ma quello su cui volevo un pochino oggi divertirmi con voi è provare a fare un po di censimenti danteschi quindi adesso dopo un po di numeri e per fare questo mi appoggio a questo libro cioè o meglio a un articolo all'interno di questo di questa raccolta le letture classenze che sono insomma sempre delle delle raccolte di disagi molto molto belle è sempre illuminante c'è all'interno di questa di questa lettura classenze mi sembra la numero 48 la numero 18 abbiamo un bellissimo articolo di victoria kirkham quanto in femmina foco da mordura che tra l'altro è una bella frasetta misogina sulla quale dovremmo ritornare la quale fa un censimento delle presenze femminili all'interno della commedia quindi mi aiuterò un po dagli suoi studi per divertirmi un pochino con voi quindi oggi come dicevo andiamo un po di curiosità ecco rispetto ai suoi studi io ho una teoria che si discosta un attimo su un punto cioè lei non mette una donna che io invece considero ma dopo ve lo dico ma avrà ragione lei perché sicuramente più autorevole di me però ho ragione anch'io allora lo dico dei numeri non è che io io qua faccio tesoro di chi ha fatto i conti al posto mio è allora in tutto nella commedia abbiamo 236 presenze allora faccio anche una apre una parentesi è difficile contare le presente della commedia perché è perché non abbiamo soltanto le anime che parlano ulisse farinata adamo tommaso ma abbiamo anche anime non so di cui si parla francesco domenico francesco non lo vediamo ma domenico noi non lo vediamo ma il domenico si parla oppure abbiamo poi tutta una categoria di mostri di demoni o anche personaggi nei sogni quindi la femmina barria rachele insomma diciamo che non è proprio così facile però se noi ci stiamo ci limitiamo solamente alle anime quindi non sto dicendo tutti i personaggi della commedia limitandosi alle anime dei tre mondi quindi anime che vengono nominate o con cui dante parla nei tre mondi quindi non i custodi infernali e non persone che appaiono in sogno non l'esempla del purgatorio noi abbiamo in tutto fatemi ritornare 236 presenze d'accordo forse sono di più ho sbagliato dei conti e ve lo dico subito no non sono 236 presenze perché i conti non tornerebbero noi abbiamo 200 ecco guardate che ballare che bravo che che cesso che sono in matematica abbiamo 210 dannati 88 beati 66 del purgatorio quindi assolutamente non sono 236 ma sono molto di più 298 sono 336 presenze scusate lo correggo anche per me stesso 336 presenze abbiamo 210 dannati 66 del purgatorio 88 del paradiso non parlano tutte di queste nel purgatorio sono 41 le anime che parlano rispetto alle 23 anime del paradiso questa è più o meno la situazione se escludiamo tutte le donne di cui vi ho detto prima in tutto noi abbiamo quindi non abbiamo le arpie non mettiamo le rini non mettiamo medusa non mettiamo la femmina balba non mettiamo matelda vi rinvio alla mia diretta con i rene tommasi sudante per sefone non mettiamo tutte queste donne qua in tutto noi abbiamo 41 donne nei tre mondi ok se poi noi escludiamo pure beatrice perché il ruolo della beatrice e le dinamiche interne sono assolutamente complesse noi abbiamo grosso modo 40 donne però mettiamole tutte quante 41 41 sono le donne che compaiono in tutto il poema non sono tante non sono neanche poche come sono suddivise queste queste anime allora la concentrazione maggiore di anime noi di presenze femminili noi le abbiamo nel limbo nel limbo abbiamo 16 donne anche qua c'è un gioco un po' strano perché nel canto quarto dell'inferno vediamo otto donne ci vengono presentate otto donne poi nel canto ventiduesimo del purgatorio stazio chiede a virgilio limbo e virgilio dice degli altri nomi cioè va a integrare il canone di anime del limbo anche il canone poetico per esempio cita dei poeti comici che prima non aveva citato nell'incanto quarto dell'inferno e abbiamo altre donne e ne abbiamo otto donne nominate in inferno 4 8 donne nominate in purgatorio 22 ma se siamo un pochino sospettosetti vediamo che c'è un quattro quarto ci sono otto poi c'è otto e c'è un 22 e due più due fa quattro ci accorgiamo di questo chiamiamolo così ritmo quaternario che è molto interessante ve le leggo anche che sono le volete sapere elettra camilla pentesilea la vigna lucrezia giulia marzia corneglia che sono le prime otto donne di infarno 4 poi abbiamo semiramide di donne cleopatra elena francesca no 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 scusate antigone si stavo leggendo l'elenco delle donne e antigone e deifile argia ismene isifile la figlia di teresia che lei è un casino e che è un casino teti e dei da mia 8 più 8 16 d'accordo tra l'altro io vi ho citato camilla dentro le otto donne ma camilla è per esempio la prima donna che viene nominata nel canto primo dell'inferno virgilio parla della vergine camilla poi a essere proprio puntigliosetti la prima femmina che compare nella commedia è la lonza ma se volessimo essere proprio anche più archetipico profondi la prima vera realtà femminile è la selva e il grembo polimorfo dionisiaco da cui inizia tutto quanto è la selva oscura quindi noi partiamo in una dimensione femmine a potentemente consacrata alla der poi abbiamo la lonza prima prima presenza femminile poi abbiamo camilla che per bocca di virgilio è la prima anima che viene nominata la prima donna che viene nominata poi abbiamo le varie anime che poi c'è una piccola diciamo così presenza tra le donne lussuriose poi abbiamo insomma in una presenza negli indovini poi nelle nelle prendo l'elenco tra le assi tra le adulatrici poi tra i falsari abbiamo mirra la moglie di putifarre insomma così si giostra tutto quanto di tutte queste anime però l'unica anima femminile infernale di cui noi sentiamo la voce è francesca di tutto l'inferno noi sentiamo la voce soltanto di francesca francesca è l'unica donna che parla dell'inferno ma è la prima anima che noi incontriamo di cui sentiamo la voce perché è vero che dante incontra un sacco di persone prima tra l'ignavi vede colui che per abilità fece il gran rifiuto poi vede tutte le anime del nobile castello vede poeti o mere ma la prima anima di cui noi sentiamo la voce è una donna francesca francesca è la prima voce di anima infernale la prima anima è una donna chiara prima anima in assoluto di cui sentiamo la voce francesca tra l'altro una francesca che sia nell'inferno ma si presenta come donna di grandissima raffinatezza letteraria parla citando l'eneide parla citando guido guinizelli parla citando andrea cappellano e legge il romanzo di lanci l'ancillotto e ginevra quindi insomma ci saranno anche cattive letture ma è una donna comunque di una grande diciamo raffinatezza culturale quindi non abbiamo a che fare proprio con una donna da poco poi la bellezza di francesca la grandezza di francesca è così forte che si viene anche un po a dubitare della dell'oggettività dell'obiettività di danni insomma spesso ci si chiede perché dante si accanisca così tanto su francesca noi abbiamo visto un pochino con piccarda che piccarda va a reintegrare le posizioni di francesca ma per avere secondo me la risposta vera e propria dovremmo aspettare cunizza cunizza nel cielo di venere che ci darà la vera risposta su che cos'è lo problema dell'amore e sul perché francesca sia all'inferno ma la questione insomma è una questione sicuramente profonda francesca tra l'altro è interessante perché compare nel canto secondo per cui ritorno ancora questo nel cerchio secondo scusate compare ancora nel compare nel cerchio secondo quindi ritorno a questo elemento duale due questo questo due tra l'altro le prime le tre donne celesti appaiono dove nel canto secondo dell'inferno quindi questo due ma insomma il due è l'altro e l'altro in un pensiero androcentrico è la femmina è la donna pensate anche al secondo sesso cioè in questo duale sta l'elemento femminile la carta numero due degli arcani maggiori è la papessa che è una sorta anche lì di iside con un velo misterioso quindi insomma queste cose queste simmetrie dobbiamo in qualche maniera tenere la mente è interessante perché francesca è la prima anima che parla delle anime dannate nel canto quinto ma è la quinta donna che parla su cinque donne perché noi vediamo nella schiere delle anime turbinanti dentro la bufera infernale vediamo quattro regine lussuriose semiramide e di donne cleopatra elena francesca è la quinta che parla di queste si stacca dalla schiera ov'è dido e dalla schiera di didone lei si fa vesillifera di questo amore tragico mortifero cavalcantiano anche qua quindi noi vediamo che c'è un ritornare del numero quattro o del due ma c'è anche un elemento del cinque e anche questo è interessante poi l'aspetto della lussuria trasversalmente colpisce anche le altre anime femminili mirra è una donna che compare nell'inferno che ha falsato la propria identità lei l'ha fatto perché per giacere col proprio padre per un amore incestuoso la moglie di putifarre anche lei è una falsaria tra i falsari la moglie di putifarre quella che accusa ingiustamente lo fa sempre per motivi lussuriosi tai della puttana è legato un elemento lussurioso quindi questo aspetto di lussuria è un aspetto che trasversalmente tocca le donne dannate e non solo delle anime infernali delle presenze femminili infernali allora fragilità il tuo nome donna cosa che diceva maletto allora questo andrebbe a ribadire il concetto anche un po' la tesi agostiniana che la donna è quella più vicina agli istinti animaleschi agli aspetti più passionali istintuali va forse anche oppure il quinto giorno vengono create gli animali e allora questo aspetto anche biblico della bestialità dell'animalità dell'istintualità i cinque sensi quindi in qualche maniera il 5 ci richiama questo sì anche ma noi possiamo anche sapere che nel vangelo di matteo nel prologo dove fa la genealogia di gesù maria è la quinta donna su un elenco abbastanza bizzarro dove compaiono quattro donne che sono o straniere o comunque sono donne scandalose le sante dello scandalo le chiama harry de luca nel livello su queste donne dove abbiamo appunto sentite ma c'è la donna invece mia figlia che piange dall'altra parte perché mi vuole mi vuole in questo momento speriamo che me la porti che mia moglie mi salvi allora e quindi abbiamo ruth bezzabea rab tamar quindi anche qua abbiamo una donna maria in un canone di cinque donne quindi sicuramente sicuramente abbiamo questa situazione poi io sono sempre convinto che nell'inferno dante metta in scena un sistema di crisi che poi vada a trasformare nel purgatorio vada integrare nel paradiso quindi sì è vero forse le donne appaiono in una componente sensuale lussuriosa in un'idea anche negativa dell'amore ma aspettiamo a dire che dante è misogino perché dobbiamo ancora vedere il purgatorio il paradiso e questo è importante perché se no rischiamo di falsare rischiamo di finire troppo presto la lettura di tutto quanto però sempre per stare in queste numerologie così insomma un po acceleriamo in realtà noi sentiremo la voce di altre quattro donne quindi in tutto le donne sono cinque ripeto e sul lento beatrice che non è un'anima che incontra in uno specifico cerchio cornice o cielo e lasciando stare mattella che ha tutta una funzione sua anche architipale profonda noi vediamo altre quattro donne e noi sentiamo la voce di altre quattro donne nel purgatorio due quindi è vero che verrebbe da dire le donne nell'inferno sembrerebbero di più a parte che le donne il limbo e il limbo non conchiamolo perché nel limbo abbiamo anche un virgilio ma soprattutto la presenza delle donne rispetto alle anime dei dannati maschi è assolutamente influente non possiamo dire che dante genota che mette più donne all'inferno perché non è vero nel purgatorio abbiamo pia bellissima che appare nel canto quinto del purgatorio quindi contraltare del canto quinto dell'inferno quindi ritorno a quest'idea del 5 e pia anima bellissima morta di morte violenta dove sicuramente è presente una dimensione sensuale e poi nel canto tredicesimo uno più tre quattro abbiamo sappia nella cornice degli invidiosi ma su sappia e su pia c'è un bellissimo video su youtube nel mio canale dove potete rinfrescarvi la memoria quindi abbiamo queste due donne in realtà poi le altre donne sono le otto che vengono nominate nel canone delle donne presenti nel limbo quindi nel limbo poi non ne vediamo altre arriviamo finalmente in paradiso dove abbiamo la presenza più significativa abbiamo anche qua altre due donne di cui sentiamo la voce c'è che dante sente direttamente qui dante sente direttamente la voce perché anche santa lucia parla ma non sente la voce dante santa lucia parla sempre per discorso riportato o discorso riportato di beatrice virgilio che lo riporta dante o per discorso riportato di virgilio a dante piccarda e cunizza piccarda compare nel cielo della luna cunizza compare nel cielo di venere d'accordo paradiso 3 paradiso 9 e qua i numeri sembrerebbero un pochino sballare che cosa va a mantenere questo aspetto duale che noi nel canto terzo del paradiso vediamo due donne vediamo piccarda e vediamo costanza d'altavilla quindi abbiamo l'elemento di due donne e nel cielo di venere vediamo altre due donne vediamo cunizza e vediamo rab sentiamo soltanto la voce di cunizza ma c'è anche rab sentiamo soltanto la voce di piccarda ma c'è anche costanza e quindi abbiamo quattro donne e ritorno a questo elemento del numero 4 la kirkam cosa dice però che nel canto terzo se vi ricordate a un certo punto piccarda dice che c'è una donna che l'altomerto in cela più su e sarebbe santa chiara e questo sarebbe il riferimento a un'altra anima però ecco quella kirkam dice ma questa qua è presente nel cielo della luna perché se è presente nel cielo della luna avremo una terza donna e quindi andremo comporre un numero di cinque donne all'interno delle presenze paradisiache a me non convince questo ecco qua io mi discosto a me questa tesi proprio non convince non convince per tantissimi motivi perché appunto è vista come vede cunizza come vede costanza d'altavilla si dice più su più su è l'impirio e a quello a cui lei si riferisce ma la kirkam salta secondo me una donna che invece per me è presente nel cieli del paradiso e tra l'altro dante vede e questa donna sarebbe la famosa clemenza clemenza moglie di carlo martello allora nel canto ottavo del paradiso dante incontra carlo martello poi tra l'altro lo vedremo ad aprile questo in questi due cieli dante ha conosciuto in vita quest'uomo c'è stata un'ambasceria a firenze amicizia un canto bellissimo il canto ottavo si chiude con il discorso di carlo martello il canto nono si apre con appunto dante che si rivolge a una clemenza tua cioè parlando si rivolge alla clemenza donna di carlo allora la kirkam non inserisce questa perché sembrerebbe da dal modo in cui dice dante sembrerebbe che questa anima sia presente ma la kirkam non fa questo perché perché probabilmente la kirkam va a considerare intanto se mi scrivi marco mi arrabbio silvia zanardini però ti ringrazio di questa enfasi che mi piace molto i mirchi hanno dei seri problemi con i marchi poi mirchi con la c con i mirchi con la k è una vita difficilissima perché clemenza molti commentatori pensano che sia la figlia di carlo che sarebbe poi nel mondo vivi di cui adesso poi andremo a fare una piccola riflessione ma che marco e marco carlo aveva anche una moglie morta tra l'altro mi sembra poco prima che morisse lui e quindi questa clemenza tua sembrerebbe la moglie carlo e da come si rivolge dante sembrerebbe che questa clemenza sia lì presente vicino al suo carlo tra l'altro quando arrivano le anime venusiane davanti a dante poi si stacca un'anima e dante chiede chi siete dando del voi e risponde carlo ecco mi hanno pensato ma forse questo chi siete è perché questa anima è doppia allora pensate siamo nel cielo di venere il cielo delle anime amanti abbiamo potremmo avere una coppia che vola davanti a dante una coppia unita insieme dove uno parla e l'altro elemento sta zitto ma non ricordano un po paolo e francesca il cielo di venere non è la sublimazione delle anime dei lussuriosi allora in qualche maniera potremmo avere proprio una coppia celeste che tra l'altro andrebbe a rappresentare una bellissima forma di amore coniugale amore coniugale bellissimo questa clemenza tua a me ricorda anche marzia tua la moglie di catone oppure come vedremo fra poco la nella mia di forese insomma sembrerebbe quasi avere a che fare con questo amore coniugale quindi per me clemenza è la moglie di carlo e secondo me anche secondo altri è perché mi sembra che anche sermonti lancia queste ipotesi e questo insomma in qualche maniera andrebbe proprio a creare un bellissimo parallelismo tra la coppia paolo e francesca e la coppia carlo e clemenza tra l'altro inseriremmo un caso di amore coniugale celeste altissimo che avrebbe delle caratteristiche e in questo caso nel cielo di venere il cielo il canto nono del paradiso noi avremmo tre anime clemenza cunizza e rab che sommate a piccarda e costanza vanno a formare un gruppo di cinque donne questo appunto è un po semplificando è un po forse confondendo allora voi mi direte è ma allora se questa clemenza viene conteggiata le donne non sono più 41 ma sono 42 perché se sommiamo 41 questo l'elenco delle donne che vi ho appena letto più clemenza clemenza non c'è in questo elenco che fa la kirkham allora ne abbiamo 42 saltano tutti quanti i numeri ma il punto qual è è il punto è questa famosa figlia di tiresia perché la figlia di tiresia ovvero manto è questa donna che crea dei casini inimmaginabili all'interno della dantistica ufficiale perché è un'anima che simultaneamente compare in due cerchi perché noi la sentiamo nominare una volta nel canto ventesimo dell'inferno nella bolgia degli indovini tra l'altro ventesimo anche questo è significativo che è 5 per 4 quindi un canto femminilissimo secondo la numerologia dantesca ma poi noi sentiamo rinominare questa donna e questa donna compare nell'elenco che virgilio fa a stazio delle donne che compaiono nel limbo purgatorio 22 2 più 2 4 quindi manto è bilocalizzata è in due posti simultaneamente non voglio parlare di manto perché l'argomento è molto intrigante molto affascinante ve la dico subito però una cosa c'è chi sostiene che dante si sia dimenticato che non può essere perché nel canto ventesimo dell'inferno il ruolo di manto è un ruolo importante virgilio spiega addirittura la nascita di manto va alla fondazione di manto va da manto quindi non può essere che poi a un certo punto si sia dimenticato oppure c'è chi sostiene un errore di manoscritti di codici ma anche questo è abbastanza improbabile nel senso che le ultime anche revisioni della commedia di enrico malato di troggio inglese non vedono nessuna correzione da fare a questo campo quindi lì abbiamo proprio manto che compare in due canti simultaneamente come mai chi lo sa magari farò una volta una diretta su su questo però se sbirciate nel mio blog accenno qualcosa se andata nel labirinto della commedia e mettete le due manto è una cosa molto breve cito insomma alcune riflessioni di qualche di alcuni tantisti quindi scome manto compariva tanto negli indovini e tanto nel limbo uniamo le due quindi torniamo a 40 più clemenza 41 i conti magicamente con dante tornano non solo vi dicevo ma noi non dobbiamo considerare soltanto le donne le anime nella commedia nel mondo dei morti perché fatalità abbiamo ogni tanto dei riferimenti interessanti nel frattempo le donne fanno delle cose finché sono in vita e soprattutto nel purgatorio hanno un ruolo non da poco perché le donne con le loro preghiere e i loro pianti sono addirittura capaci di influire sulle condizioni delle anime tra l'altro questa aprirebbe una parentesi molto bella ma c'è un rapporto tra le anime del purgatorio e gli esseri umani diciamo di relazione davvero attiva per cui da una parte noi umani con le nostre preghiere possiamo influire sulla sorte ultraterrena dei nostri cari ma dall'altra paradiso purgatorio 11 la preghiera dei superbi i superbi dichiarano apertamente che loro pregano per noi e che qua insomma è interessante questa relazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti ecco chi sono queste donne che compaiono nel mondo dei vivi e che hanno un ruolo ma sono anche delle donne interessanti è perché abbiamo per esempio la fiera moglie di jacopo rusticucci per cui a un certo punto sembrerebbe quasi che jacopo rusticucci lo incontriamo in inferno 16 nel cerchio dei sodomiti e sembrerebbe quasi che questo sia diventato omosessuale per colpa della moglie oppure prima ipotesi jacopo rusticucci omosessuale per colpa di questa moglie feroce ipotesi è invece più interessante che come invece sostiene pietro allighieri che questa moglie fu causa di bestiales concupendi modus cioè in qualche maniera diciamo così fece sì che la donna invece che aveva una posizione naturale ma scelse una via eterosessuale per cui insomma una forma di sodomia però eterosessuale ma allora quella donna cattiva che fa sì che l'uomo addirittura sia dannato all'inferno ma viene citata anche una buona gualdrada questa è la nonna di un altro personaggio presente nell'inferno e questa è invece una figura positiva poi abbiamo la bella figlia di manfredi che incontriamo in purgatorio tre costanza la moglie di pietro terzo d'aragona che a sua volta nipote della famosa costanza imperadrice e anche qua interessante perché è manfredi nel canto terzo del purgatorio in cornicio alla sua discendenza i suoi diritti dinastici all'interno di una linea materna costanza lui è nipote di costanza e padre di un'altra costanza viene saltato federico secondo l'abbiamo visto anche l'altra volta come dante tratta il tema di federico secondo è sempre abbastanza interessante poi purgatorio otto abbiamo una giovanna mia questa volta invece è è la figlia di nino visconti che va a controbilanciare la moglie invece una moglie che non ama più sono che è una vedova che si è già risposata che quindi ha abbandonato il lutto e ha smesso di amare il proprio marito che sarebbe beatrice d'este allora cosa è qua che mi colpisce mi colpisce che la moglie di nino visconti la moglie di acopo rusticucci vengono di nuovo presi come esempio di misoginia dantesca perché appunto la moglie di nino visconti si è dimenticata del marito ma a sua volta nino visconti dice che c'è la figlia che è in grado di pregare e così come c'è questa moglie di acopo rusticucci che sicuramente non era la santa donna ma abbiamo la buona gualdrada che va a bilanciare insomma mi sembra strana questa selezione abbastanza attesi per dimostrare che dante sia misogino in più il canto ottavo offre un'altra offre il fianco a questa tesi del dante misogino per questa famosa indecasillabo quanto in femmina a foco da mordura cioè a dire in chiave dantesca la donna è mobile quindi espressione sicuramente forte però anche qua è un uomo arrabbiato con la propria moglie ma non con la propria figlia il purgatorio 23 abbiamo sicuramente quella cosa che citavo all'inizio sicuramente abbiamo un attacco molto forte alle sfacciate donne fiorentine che mostrano le con le poppe il petto ma assolutamente abbiamo nella mia forese donati dice che lui si è salvato per le lacrime di questa donna che hanno accelerato il percorso di espiazione del marito allora citare purgatorio 23 come o purgatorio 8 come esempi di misoginia dantesca vuol dire selezionare quello che vuoi per confezionare ad arte la tua tesi il personaggio di nella e mi piaceva molto quello che scriveva maria castronovo a cui ritorno e nella non ha forse mosso a pietà con il suo pianto l'angelica entità daimonica daimonica perché abbreviasse a forese la sua pena cioè il pianto di nella è un pianto in grado di condizionare il volere di dio l'alto fatto di dio non è una cosa da poco allora soffermarci sulle sfacciate donne fiorentine o poi anche sulle impudiche donne di cui parlerà cacciaguida sì ok ogni tanto ci sono queste bordate ma non è che questo vuol dire che dante è bacchettone bigottone tante sta criticando alcuni comportamenti dante non sta con attaccando un genere dante non sta attaccando un ruolo perché sennò non si salverebbe nessun papa e invece abbiamo dei papi in purgatorio abbiamo dei papi in paradiso e abbiamo un istituto del pontificio un istituzione che viene rispettata da dante dante su questo è molto preciso e il totavo il canto nono del paradiso su questo sgombrano davvero il terreno d'ambiquità dante e dice apertamente che come ci può essere una come ci può essere una cunizza che vediamo nel cielo del paradiso ci può essere un nezzelino da romano che noi vediamo immerso nel fiume dove sono immersi violenti nel fiume di sangue dove sono immersi violenti addirittura guardate la famiglia donati per la famiglia donati abbiamo corso donati destinato all'inferno forese donati lo incontriamo in purgatorio piccarda donati brilla in paradiso bellissima allora non è che dante colpisce una famiglia o dante con colpisce una categoria o dante se la prende con delle con degli stereotipi con delle etichette dante fa delle riflessioni ad è davvero specifico ma andare a scovare gli elementi è un po' rispetto ai grandissimi esempi di splendore femminile e del ruolo potente con cui le donne salvano gli uomini le donne salvano gli uomini nella salva forese costanza pregarà per il suo per suo padre maria salva dante maria salva bonconte questo è la cosa più importante tutto il resto sono provocazioni sono slogan sono sciocchette che non trovano senso nel testo e di dante poi abbiamo in purgatorio purgatorio in purgatorio 24 abbiamo gentucca sta famigerata è gentucca anche qua c'è chi ha pensato che fosse la figlia segreta di dante c'è chi abbia pensato che fosse un nome in codice quindi qualcosa che fosse a che fare con james lucca oppure questa gentucca morla donna che renderà gradita da anche la città questa gentucca viene presentata come personaggio positivo e poi vabbè abbiamo il paradiso 15 vabbè ci tocca beccare le impudiche donne fiorentine e vabbè è vero fiorenza dentro dalla cerchia antica ondella togli ancora e terza nona si stava in pace sobria e pudita non avea catenella non corona non gonne contigiate non cintura che fosse a vedere più che la persona non faceva nascendo ancora paura la figlia il padre che il tempo e la dote non fuggia in quince quindi la misura non avea case di famiglia vote non verrà giunto ancora sardanapalo a mostrar ciò che in camera si puote non era vinto ancora montemalo del vostro uccellatoio che com'è vinto nel montarsù così sarà nel cano tardapanalo tardanappalo mamma mia che nome allora sì allora qua sembrerebbe guardando queste queste terzine queste indecasille vi sembrerebbe proprio il dante bigottone il dante che addirittura vuole le donne con la camicetta chiusa con pudiche castigate tutte suore nel medioevo allora anche questa allora vabbè potrebbe anche essere che a dante certi usi sfacciati o certi usi scostumati non piacessero e ci potrebbe anche stare da qua dire che dante misogino sicuramente ce ne vuole ma il buon marco ariani grandissimo studioso del paradiso nel commentare questo canto quello che va a indicare in maniera molto suggestiva è che qua dante non sta par di un tempo passato ma cacciaguida scusate cacciaguida sta parlando di un utopia fiorentina che ancora non c'è utopos il luogo che non c'è non sta parlando di una firenze esistita ma di una firenze che non esiste scandita da nove non 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 allora quello che interessa dante è parlare di una firenze che non esiste magari esistita ma la firenze utopica che città del trionfo della misura del pauperismo è il trionfo della misura della moderazione questo è importante poi dante non esclude e qua rinvio al bel libro di gianni bachelli su iniziazione femminile che questo femminile possa anche essere rappresentato da aspetti vili utilitaristici e lupeschi cioè dante è ben consapevole che esiste un femminile prigioniero di un cattivo maschile perché non è che perché dante in qualche maniera dante qualche maniera parli male delle donne allora odi le donne oppure siccome lui usa il principio femminile come un principio di donne che salvano allora non può parlare male delle donne no come dicevo prima dante è ad personam cioè dante è complesso dante completo dante è realista è vero esistono donne negative esistono donne che rappresentano l'omologazione a un cattivo maschile maria castronova gentucca vuol dire fra la gente di luca è nato il tuo poema buona giunta non poteva parlare bene fra i golosi no maria io non sono proprio d'accordo su questa linea io le linee sì i codici possono starci no ma è questa tesi proprio te lo dico col cuore ma magari ne parleremo quando faremo la diretta insieme io faccio davvero fatica a stringere dante a cose così gentucca vuol dire virgilio vuol dire beatrice vuol dire è proprio una cosa su cui io ho l'allergia l'intolleranza no gentucca un nome di donna che poi voglia dire tante altre cose sì e potrebbe anche in simboleggiare anche la gente di luca ma che nella gente di luca è nato il poema no io questa cosa proprio non la considero e poi per carità è una tesi sicuramente autorevole che compare in tantissimi commenti però io davvero faccio fatica quando sento dire questo vuol dire virgilio vuol dire questo cosa vuol dire questo si vuol dire anche perché sennò rischiamo secondo me un riduzionismo di dante che sta male con la grandezza e l'universalità della commedia però appunto a breve avremo una diretta insieme e così mi minimi se abbiamo tempo perché dobbiamo parlare di un sacco di cose belle del tuo libro magari affrontiamo anche questo tema o questo principio tutto questo per dire che sì è vero che esiste anche un cattivo femminile e schiavo di un cattivo maschile ma il femminile che a me interessa e sul quale dante insiste molto è un femminile sacro positivo è un femminile che assieme al maschile permette un risveglio iniziale il buon femminile e il buon maschile uniti insieme come archetipo vanno a smascherare decostruire denunciare il maschile deviato che trascina anche nelle proprie bassezze il femminile e qua sto citando sempre le pagine molto belle gianni bacchelli negli ultimi canti del purgatorio beatrice dante come coppia insieme giudicano la storia giudicano il cammino dell'uomo e ne dichiarano il degrado allora le donne non sono molte sicuramente ma sono assolutamente ben rappresentate ricoprono tutte le possibilità sociali tutte le sfumature psicologiche con grandissimo acume e tra l'altro della donna sorpassano superano lo stereotipo medievale che sicuramente uno stereotipo negativo e allargano a dismisura l'orizzonte questo è chiaro due ultimi esempi due ultimissimi esempi poi andiamo in chiusura ho citato adesso gli ultimi canti del purgatorio gli ultimi canti del paradiso terrestre negli ultimi canti del paradiso terrestre noi abbiamo dante assolutamente salvato dalle donne dante forse starò solo su questo esempio perché mi sa che secondo esempio che volevo fare non ci sto dietro dante entra nel paradiso terrestre la tradizione medievale vedeva il paradiso terrestre o vuoto o abitato da due vecchiotti cioè enoch e il profeta elia i non morti questi che avevano questo privilegio quando dante entra nel paradiso terrestre il paradiso terrestre lo vede abitato da una donna appunto mattella enigmatica donna ministra ministra con una funzione tra l'altro con un ruolo di sacerdotessa di 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 ierofante un ruolo davvero sacrale ecco lei che è preposta al ai riti illustrali deve immergere dante nell'acqua dante stazio deve immergerli nell'acqua tra l'altro donnescamente la prima l'anima la donna abita il paradiso terrestre c'è stata anche una teoria un po bislacca ma a me fa simpatia che vede in questa mattella e persephone rappresenta proprio la luna rappresenta l'influsso lunare rappresenta proprio anche la trilogia ecate luna rappresenta la signora delle acque la signora delle piante rappresenta un archetipo insomma in qualche maniera potente complesso però c'è anche chi ha detto anche in qualche maniera rappresenta anche eva perché dante e mattella formano una coppia fanno ricostruire simbolicamente la coppia adamo ed eva che non può essere rappresentato da beatrice che ha un altro ruolo c'è anche chi ha detto e a me questa tesi fa simpatia che è che mattella potrebbe essere la figlia di adamo ed eva che è rimasta nel paradiso terrestre mi fa tenerezza mi piace be la racconto me la cito così però piuttosto che altre cose per rispondere la figlia di eva rappresenta un simbolo chiaramente potente è un enigma ancora forse resistente per certi versi è mattella che abita il paradiso terrestre non solo quindi è mattella che compie questi ritmi ma dentro il paradiso terrestre appaiono le ninfe le sette ninfe allora è vero che poi commentatori dicono quattro più tre le quattro virtù cardinali le tre virtù teologali ma queste sono ninfe noi siamo ninfe e nel cielo siamo stelle nel cielo siamo stelle dire che queste sono ninfe è molto di più che dire che sono le virtù non che non siano anche le virtù sicuramente in una simbologia cristiana sono le virtù ma il paradiso terrestre ha una vita una simbologia integrata mattella è tanto eva quanto per sé le ninfe sono tanto le virtù quanto le stelle le stelle di un universo perturbante pagano e questo è importante dante è salvato da nove donne mattelda beatrice e le sette ninfe che poi fanno tutta una serie di giochi per cui poi a seconda di come si combinano perché a un certo punto quattro donne danzano attorno a beatrice quindi diventa quattro ritorna il quattro ma quattro più uno cinque e quindi ritorna il numero cinque perché c'è beatrice e mezzo poi appunto beatrice si unisce alle sette ninfe quindi tornano a essere otto e poi c'è appunto anche mattella diventa nove e dove il numero del miracolo nove è il numero di beatrice insomma tutti questi giochini da non prendere in maniera pedante ci fanno vedere davvero anche questo dinamismo del simbolo dell'archetico questo è il femminile che guarda dante come possiamo dire che dante misogino quando dante è salvato dalle donne salvato dalle tre donne in paradiso 2 salvato dalle donne concretamente addirittura in una cerimonia cristiano pagana in una fantasmagoria allucinante nel paradiso terrestre da ben nove donne e come può riscopare anche l'ultimo esempio essere misogino quando arriviamo finalmente nel paradiso lo vediamo il paradiso vero e proprio nel canto trentaduesimo tre più due cinque e di lì vediamo dieci donne dieci donne tra l'altro di queste dieci donne se togliamo le donne lucia e beatrice che sono le donne cristiane abbiamo otto donne ebraiche anche qua l'esempio le grandi matrone maria eva rachele beatrice sarà rebecca giuditta ruth anna lucia l'elenco di queste dieci donne non sono dieci uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci si sono dieci o c'ho paura con un mario perché con un mario non ci capisco niente e guardate qua questa cosa tratto bellissima che in tutto questo ci stavo per parlare avevo messo un argomento tremendo ma lo salto in pieno e in tutto questo abbiamo sentite che bellezza che è questa terzina non la trovo più in cui c'è la mamma mamma mia non la riesco a trovare la trovo subito scusate perché ho dovuto averla messa non l'ho messa c'è la mamma di maria ecco qua il contrapietro vedi sedere anna tanto contenta di mirare sua figlia che non muove occhio per cantare osana cioè questo amore materno sono tutte le anime questa è una bellissima intuizione di simone marchesi nel suo stupendo libro a proposito di dante stupendo compratelo compratelo tutte le anime sono rivolte a guardare dio e anne invece guarda sua figlia allora da un po c'è il privilegio di maria maria è sempre eccezionale maria è sempre quella che compone tutte le infrazioni alle regole paradisiache e non e poi c'è l'amore materno che supera la venerazione paterna anna come madre non può far a meno di guardare sua figlia anche qua le donne che generano queste eccezioni gli scandali più potenti il viaggio eccezionale di dante è sempre causato da donne è l'elemento femminile è il principio femminile che va a scardinare la legge patriarcale il pensiero patriarcale monolitico viene sempre infranto dal pensiero femminile ma poi proprio per se proprio volessimo dire quindi a parte questo ma tutto il paradiso appare come una candida rosa c'è come un segno un simbolo femminile potentissimo non solo ma tutto il paradiso è investito di una luce di allora come possiamo dire che dante misogino quando non solo negli esempi concreti che vi ho fatto cioè quanti esempi di donne meravigliose eccezionali di questo femminile sacro che è anche un femminile politico tra l'altro beatrice parà oltre a fare delle idee a scagliarsi in maniera potente con delle ardenti dissertazioni disquisizioni accademiche beatrice si scaglia a livello politico in maniera fortissima l'ultimo discorso che farà beatrice è un discorso politico cunizza la vedremo nel cielo nono tra le anime amanti non parla di amore parla anche di amore ma parla di politica quando abbiamo le donne che guardano novella 2000 abbiamo donne informate interessate presenti attive penetranti che sanno leggere i tempi che sanno dare una visione politica chiara come facciamo a dire che dante misogino per due esempi del piffaro tratto esempi che fuori dal contesto non vogliono dire niente ma anche bene guardiamo il paradiso il paradiso c'è questo trionfo del femminile che anche se non è rappresentato e se non vi basta tutte queste donne se non vi bastano va bene non ci bastano abbiamo una candida rosa e abbiamo un immenso mare oceano fiume di latte dante si abbevera si nutre di dio come un bambino succhia dalla mammella materna la luce di dio è una luce nutritiva materna nell'ultimo canto del paradiso non abbiamo soltanto la visione di dio padre figlio e spirito santo abbiamo anche l'inno alla vergine madre abbiamo anche l'orazione alla regina la coppia regale si unisce canto ventitresimo del paradiso appare il trionfo di cristo e appara a fianco maria madre e sposa al tempo stesso basta non dico altro io spero che questa carellata selvaggia questa parata selvaggia come direbbe renbo di donne magnifiche vi abbia un po' incuriosito quindi ve le andate a cercare e un po' vi abbia anche fatto venire voglia di approfondire alcuni argomenti io come vi dicevo delle donne del paradiso ne parlerò di tutte assolutamente sarà una puntata su lucia una puntata su maria una puntata su beatrice quindi su questa cosa io cercherò di starci parecchio e starò anche tantissimo sui canti dell'empirio perché secondo me sono canti che necessitano davvero di una lettura integrale da tanto sono belli ma dall'altra dobbiamo davvero essere grati della 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 modernità appunto se dante davvero è figlio del suo tempo un dante che mette una beatrice come maestra infallibile una maria capace addirittura di piegare il volere di dio e tutte queste donne meravigliose tra i vivi e tra i morti che hanno un potere diretto e che vanno fuori dal loro ruolo non è un neutro indistinto sono donne che compaiono con la loro femminilità e al tempo stesso scardinano tutti quelli che possono essere gli stereotipi mi aspettate c'è la maristella che mi dice mi è piaciuta molto l'idea di complementarietà di genere sottesa più o meno del discorso nessun fondamentalismo viva dio il femminile sacro non nulla il maschile o eccolo lì due polarità in equilibrio sì volevo dire proprio questo maristella e poteva parlare maristella in tre minuti ecco questa cosa qua che io ho detto in un'ora e mezza forse anche in maniera confusa l'ha detto magnificamente maristella grazie anche a maria beatrice sì non viene annullato il maschile c'è un maschile cattivo è un maschile positivo c'è un maschile c'è un femminile cattivo è un femminile positivo nella commedia prevale il femminile positivo il femminile positivo unito al maschile positivo generano gli uomini nuovi che noi dobbiamo essere le vite nuove che noi dobbiamo vivere dante e matelda dante e beatrice che si creano delle coppie queste coppie la vergine madre e dio sono rappresentano proprio le nozze mistiche le coppia l'unione l'integrazione tra un principio potente maschile un principio potente femminile nell'inferno noi abbiamo la crisi la crisi c'è anche addirittura nell'inferno l'interno è gerarchicamente maschile ma abbiamo una regina dell'inferno tra le righe inferno 9 inferno 10 però noi non la vediamo ma dante sapeva che c'era una regina dell'inferno lo sapeva perché leggeva reneide nea fa il suo viaggio dedicando il ramoscello d'oro alla giunone infera a persefo nel purgatorio abbiamo una trasformazione di questi temi nel paradiso abbiamo assolutamente l'integrazione allora le donne sono potenti le donne non fanno soltanto i mestieri nella commedia anzi proprio per niente le donne hanno tantissimo da dire e noi dobbiamo imparare a riascoltare il grido di dante con orecchie bene aperte e con occhi ripuliti da ogni pregiudizio leggiamolo tutto nella sua complessità dante restituisce un'immagine del femminile meravigliosa dante salva le donne ma soprattutto le donne salvano dante noi ci vedremo la settimana prossima che probabilmente sarà di martedì ma adesso ancora non lo so perché devo vedere un po di robe dove parlerò del cielo di mercurio canto quinto canto sesto e un pochettino del canto settimo del paradiso vi ringrazio ringrazio tutte ringrazio tutti e una buona serata